Sindaco, i cittadini di Piazza Perugino tornano a lamentare i disordini che partono da quella zona. Sembra che la Questura ci voglia vedere chiaro, forse sarà argomento anche del prossimo comitato sulla sicurezza. Di fatto i cittadini la notte sono tornati a non dormire più. Eppure avevate quasi risolto quel problema in passato. Stiamo lavorando anche lì con quest'ora. Ha chiuso adesso un locale per 60 giorni. Pensate, ha chiuso un locale in Piazza Garibaldi da quelle parti per 60 giorni. Stiamo lavorando e naturalmente abbiamo questi extracomunitari che devono capire che sono ospiti e devono adeguarsi alle nostre leggi e non fare quello che vogliono, coltelli, bastonate, eccetera, eccetera. Perché a quel punto cominceremo anche noi ad andare duri.